Ieri, lunedì 31 agosto 2020, intorno alle ore 19, a pochi minuti di distanza dall'acquazione che ha interessato l'isola Dischi, una nuova, violenta e puzzolende ondata di liquami si è riversata sull'iso Dischi, creando su un gran parte del litorale la solita chiazza di acqua di colore marrone e giallognolo che emanava una puzza a dir poco nausea bonda, liquami che così come è capitato anche altre volte, puzzavano pure di nafta, come hanno tenuto a sottolineare alcuni operatori della zona che ancora una volta hanno dovuto fare i conti con questo indegno spettacolo per un paese come il nostro che si definisce civile, uno spettacolo indecoroso, dicevamo, a cui ancora una volta hanno assistito decine e decine di i turisti che alloggiavano nelle strutture ricettive della zona alberghiero turistico per antonomasia dell'isola Dischi. Il fiume di Liquami, che da circa 30 anni si riversa periodicamente a mare, proviene dal rio Corbore, il canalone che raccoglie le acque piovane a partire da Piedimonte, frazione del comune di Barano Dischi e giunge sul lungomare Cristoforo Colombo, costeggiando la strada principale. Al contrario di chi da decenni cerca di nascondere la polvere sotto al tappeto, preferendo che nessuno parli di questo schifo, a partire dagli amministratori comunali responsabili di cotanda vergogna, come dirigenti del partito comunista italiano marxista-leninista, che da sempre denunciamo questa incivile assurdità e continueremo a farlo, nonostante le inutili pressioni che ci giungono da più parti. E questo perché, al contrario di altri che pensano solo a curare i propri affari, noi comunisti la nostra isola Lamiamo a tal punto, da denunciare puntualmente gli stupri che vengono perpetrati al suo ambiente e al suo ecosistema. Proclami a parte, il sindaco Enzo Ferrandino, che amministra il comune di Dischi da circa vent'anni e che per questo è uno dei massimi responsabili politici ed amministrativi, assieme ai Gaudioso di Barano, dei periodici scarichi che produce il canalone del rio Corbone. Ritiene se è giunto il momento, finalmente, di risolvere definitivamente il problema? O per lui la bella ischia che ci aveva promesso in campagna elettorale anche quella degli scarichi a mare dei liquami puzzolenti? Ora basta, si metta fine a questo schifo. Il PCML, fondato dal compianto segretario generale Domenico Savio, e cioè dell'unica forza di opposizione politica, nonostante non ancora presente in Consiglio Comunale, chiede la definitiva soluzione del problema, per cui continuerà a battersi senza se e senza ma.